Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente back to youtube Da un po' di settimane che manco, scusate, sono state veramente delle settimane full E io sinceramente questo weekend non dovevo neanche essere qua Questo weekend dovevo essere a Budapest, dovevo partire ieri, però poi l'una è stata male Se mi seguite su Instagram lo sapete, vi ho raccontato tutto Comunque ora sta meglio, sta seguendo una terapia farmacologica e vedremo Comunque è super seguita, noi abbiamo deciso di non partire per star vicino a lei, per starle dietro Quindi in teoria non c'è da preoccuparsi, vedremo Allora, comincio questo video affrontando un tema un po' particolare Che è da un po' che mi tengo dentro, sul quale ho ponderato molto Che è il tema delle amicizie Ve ne avevo già accennato su Instagram e ho visto che c'era tantissimo interesse E perché? Perché da quando c'è stato Covid ho notato anche per voi, per molti di voi Per molta gente, anche leggendo vari commenti sotto i post di altre persone Che tema amicizie è un tema che è molto delicato in questo momento Cioè tanti si ritrovano ad aver perso tantissime amicizie Cosa ne penso? Allora, io ho un percorso molto particolare con le amicizie Cioè già di default io le mie amiche le posso contare sulla punta delle dita di mezza mano Perché io ho cambiato città molto spesso nella mia vita Considerate ogni tre anni io cambiavo città E questo non mi ha permesso da piccola di crearmi delle amicizie solide Ai tempi quando io avevo insomma dei 10 ai 18 anni Non c'erano grandi social per tenersi in contatto se non Facebook Però io proprio cambiavo città consapevole che poi non sarei mai più tornata in quella città Quindi quando io andavo via sapevo che non avrei mai più rincontrato quelle persone E quindi dentro di me non ero mai riuscita a creare delle vere forti amicizie Stabili durature nel tempo perché quando arrivavo in una città Incontravo persone nuove Dentro di me pensavo Sì, tanto fra tre anni vi saluto e non vi rivedo mai più Quindi non sono mai riuscita a farlo Fino a più o meno l'università Infatti un'amicizia molto forte che io ho Forse anche la prima vera amicizia forte che ho sviluppato Sviluppato si dice di un'amicizia, non lo so È con Veronica perché dal primo giorno di università Il caso ha voluto che ci sedessimo una accanto all'altra E da lì è nata un'amicizia fortissima e solidissima Che ora si mantiene nel tempo nonostante ci vediamo molto poco Causa, vabbè, ci vediamo in due città diverse Piacenza e Milano non sono lontanissime Però tra il Covid eccetera Non c'è stata moltissima opportunità di vedersi Se non quando possibile Cosa penso che sia successo in questo anno e mezzo? Allora, io ho sviluppato questo pensiero Che le amicizie vere, forti O comunque che le amicizie si rinforzino Facendo cose insieme Vivendo delle esperienze, creando dei ricordi Io ho un forte legame con la mia amica Valeria Perché siamo affini, perché ci troviamo bene a parlare A raccontarci le cose Ma anche perché ne abbiamo fatte veramente tante Abbiamo viaggiato Siamo state in Puglia insieme Siamo state nelle Filippine insieme Abbiamo fatto un sacco di viaggi Abbiamo vissuto anche diverse esperienze Ora non è che c'è bisogno di fare i viaggi Per creare dell'amicizia Però ci siamo organizzati Siamo andate a fare delle cose Siamo andate, non so Anche banalmente al mercatino di Natale Cioè abbiamo fatto cose Fare cose insieme Crea dei ricordi E crea qualcosa di sostanza Al cui legarsi Legare l'amicizia Secondo me è questa un po' la cosa chiave Ed è un po' la cosa che è mancata In quest'ultimo anno In quest'ultimo anno ovviamente Abbiamo passato sempre meno tempo insieme Ai nostri amici Slash conoscenti E secondo me questa mancanza di Tempo passato insieme A creare qualcosa di più Solido Dei ricordi Ha fatto sì che Tante amicizie Si Sciogliessero Non so come dire Cioè venissero meno Perché Ci siamo ritrovati a parlare tanto Per quanto parlare sia bellissimo Questo è il mio pensiero ovviamente Quindi Le sentitevi Assolutamente liberi di dirmi la vostra opinione Anzi scrivetela qua nei commenti Io sono curiosa Perché da un bel po' che ci pondero E io sono arrivata a questa conclusione Che Parlare È indubbiamente bellissimo Però Quando parliamo Quindi magari al telefono Anche soltanto vedersi per un caffè No? Ok Vediamo per un caffè E parliamo Io ti racconto la mia vita Tu mi racconti la tua vita Però Queste due vite Non si intersecano E secondo me Non è possibile creare un'amicizia Basata sul consiglio Cioè Ok Indubbiamente In un'amicizia Il rapporto dove Tu mi racconti i tuoi problemi Io ti racconto i miei problemi Ci confrontiamo Ne parliamo E È bello Parlarne Però poi Secondo me Un'amicizia Per essere solida Duratura nel tempo Deve avere qualcosa Che lega queste due persone E che non è soltanto Un rapporto terapeutico Di psicoterapia Che indubbiamente ci deve essere Ma non può essere esclusivamente quello E secondo me La mancanza Di possibilità Di quest'anno Questi ultimi due anni Di fare cose insieme Ha fatto sì Che le amicizie Piano piano Non si basassero più Su questo Secondo me Mattoncino fondamentale Questa è la mia opinione Sull'amicizia Sul perché Magari in questo ultimo anno e mezzo Si sono perse E sono venute meno Tanto amicizie Io Ne ho perse Ne ho perse E Ho capito Tante cose Riguardo alcune persone E Sono anche Da un certo punto di vista Contenta Di Non frequentare Più determinate persone Che Magari adesso ripensando Mi fanno sentire anche un po' Usata Eccetera Non è assolutamente La sensazione che voglio Avere Quando frequento qualcuno Quindi io sono anche Dell'opinione Meglio Pochi Ma buoni E pochi Ragazzi Cioè Io ve lo dico I miei amici Si contano veramente Sulla Punta delle dita Di mezza Forse Quindi proprio Cioè Non sentitevi meno Se non avete Diecimila amici Perché Cioè Amici Avere Veri amici È veramente difficile Puoi avere tantissimi Conoscenti Io non sono capace Nemmeno Di avere tantissimi Conoscenti Oppure Fare quella Un po' finta Amica 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 Non piano Cioè È un po' Un mio carattere Io Sono molto Chiusa Selettiva Non perché Me la tiro Ma perché Non riesco A essere Completamente Libera Essere me stessa Con persone Che so che Non gliene frega Niente O che Magari Mi vogliono Soltanto usare Ehm Tutta così E Basta Basta Sto finendo Di editare Questo video E ci tengo A precisare Che non vorrei Che passasse Il messaggio Che Intendo dire Che le amicizie Non possono Essere Amicizie Se non si fanno Cose insieme Cioè Mi riferisco In questo Video A una piccola Parte di quello Che magari Può essere Accaduto E In questo Periodo E Offrire A voi Un piccolo Spunto Magari Una risposta Che magari Non vi era venuta In mente Penso che la mia Si riferisca Più a un Quanto è difficile Creare nuove amicizie In questo periodo Data la situazione E Penso anche Che ovviamente Le amicizie Non si basano Soltanto Sul Fare cose insieme Anche perché Io ho amicizie Come vi dicevo Veronica Che mantengo Nel tempo Pur non condividendo Tanto tempo Come prima Ci sono amicizie Più solide E meno solide Che poi Perdurano nel tempo In base anche Alla maturità Delle persone Mi sono sentita Di fare questo video Per darvi questo consiglio Di provare A fare più cose Con le persone Con le quali Secondo voi Potreste creare Un'amicizia Io ad esempio Mi sto impegnando A creare un'amicizia Perché Vi avevo detto Che A danza Quando io avevo iniziato O comunque Avevo espresso Il mio Intento ad andare Una ragazza Cassandra Bellissimo nome Cassandra Cassandra Toro Che conoscevo Un po' Di vista Avevamo preso Un caffè insieme Una volta Mi ha detto Ma io anche io Vorrei provare E ho detto Ok proviamo E nel tempo Da vederci solo Per andare a danza Poi ad andare insieme Motorino A vederci prima Stiamo Costruendo qualcosa Ciao Cassi So che guardi questi video Ti saluto Però È tutto nato Da quello Cioè se noi Avessimo continuato A vederci Sempre solo Per un caffè Dove Io le raccontavo La mia vita Lei mi raccontava La sua Non avevamo poi Più argomenti In comune Adesso Una cosa Tira l'altra Siamo andati Al mercato Insieme Abbiamo fatto Una spesa Con Jimmy Anche il suo fidanzato Quindi piano piano Stiamo creando Dei piccoli Ricordi E insieme a questo Ovviamente Stiamo imparando A conoscerci meglio E a aprirci L'una all'altra Però Secondo me Ci sono le cose Che devono andare Un po' di pari passo E basta Quindi ci tendiamo A fare questo piccolo appunto Che ovviamente Non penso Che per avere Degli amici O per mantenere Degli amicizie Devi per forza Fare delle cose Insieme Però È Secondo me Una cosa fondamentale Per la Creare un rapporto Poi Come si evolve Come si evolverà Nel tempo Può anche non prevedere Una frequentazione Assidua Di cose Però Secondo me Alla base Per creare un'amicizia Ci vuole Poi Per mantenere Un'amicizia Perché Tutte Tante persone Che incontriamo Poi si rivelano Come Qualcosa Che non credevamo Possiamo parlarne In un altro video Basta Quindi io Vi saluto Spero di essere Abbastanza chiara Fatemi sapere Cosa ne pensate Se magari Vi ho dato uno spunto Oppure se voi Eravate Arrivati Hanno altre Conclusioni Noi ci vediamo Nel prossimo video Io vi saluto Con questa bellissima Capigliatura A mezzo a questo Cavus Della casa Che bordello Che bordello Che bordello Ciao Grazie a tutti Grazie.